Io mi sono mosso per aiutare un comune, che come dice Monteschiè è nato con Dio, che aveva bisogno di alienare un bene comunale per rientrare nei termini del patto di stabilità e non subire sanzioni finanziarie. Una esigenza a quella del comune di Penne che è stata fortemente spinta anche dal revisore dei conti comunali. Pervengono qui degli amministratori, io mi attivo come faccio sempre, come ho fatto cento volte prima e come sono convinto che farò cento volte dopo. Non mi meraviglio dell'esigenza di rilettura gius penalistica perché c'è tutta e prevista all'ordinamento, sono qui a dare la mia collaborazione in qualsiasi modalità, però voglio che la cittadinanza sappia di cosa è composta la vicenda. Un fondaco ad uso commerciale portato avanti da tempo, oggetto di una delibera di alienazione comunale che per via dell'esigenza di un parere del mi BACT, Ministero dei Beni Culturali, c'era bisogno di questo visto per poter procedere alla vendita e all'incasso del ricavato da parte del comune per rispettare il patto di stabilità. La rottura delle leggi e delle regole, se manca l'interesse privato, diciamo non mi preoccupa e non mi infastidisce. Non mi sento un inseguito, non mi sento un perseguitato, però sono fortemente animato da una volontà di perseguire l'interesse pubblico. Quando questo c'è io sono lì ad attivarmi e ripeto non sono infastidito per l'attività di rilettura. Spero che la documentalità pervenga tutta per avere velocemente chiarezza definitiva, perché quando c'è un dubbio, quando c'è un'esigenza è bene che questo lo si faccia nei confronti di chiunque, anche nei confronti del Presidente della Regione che più volte è destinatario di richieste di sindaci, di presidi scolastici, di altre autorità. Io sto per mettere in campo un'attività corposa di verifica sismica delle scuole. Anche questa, diciamo, sospende qualche normale procedura amministrativa, ma prevale l'interesse pubblico della verifica sismica. Con questo spirito ho sempre fatto il mio dovere.